Giochi infantili in italiano. Il gioco di oggi è la campana. Questo è sicuramente tra i più antichi e diffusi al mondo. Generalmente è svolto all'esterno. Occorre disegnare sull'asfalto, di solito con un gessetto, 10 caselle numerate. Le regole del gioco sono molto semplici. A turno ogni giocatore lancia un sassolino all'interno del primo riquadro. Se il sassolino fuoriesce dalle linee limite il suo turno finisce. Altrimenti quel giocatore dovrà proseguire su un piede solo oppure appoggiando entrambi i piedi a terra in caso di caselle orizzontali. Così dovrà fare l'intero percorso all'andata e al ritorno. Se inciampa, cade o tocca le linee delle caselle passa il turno al giocatore seguente. Vince chi per primo contrassegna ogni casella col proprio sassolino, facendo il percorso avanti e indietro senza incidenti. Conoscevi la campana? Come si chiama questo gioco nel tuo paese? Scrivilo nei commenti.